Ci sono domande? Rai, Variale ha il microfono. Mister buonasera, complimenti. Le è piaciuto di più il gioco o le è piaciuto magari non si aspettava quest'ingresso a freddo di Maximovic fantastico o aver dato quattro reti ad una squadra che lo scorso anno si qualificò alla grande e riuscì addirittura a vincere in casa dell'Atletico Madrid una squadra che difficilmente subisce gol. Grazie. Una squadra di prima fascia a Champions, una squadra in trasferta erano mesi e non perdeva quindi abbiamo penso dimostrato in questa manifestazione ci possiamo stare e mettere così sull'orlo del K.O. una squadra di prima fascia penso non sia facile quindi i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. Ci rimane un pizzico di rammatico perché nel momento in cui gli avversari erano K.O. abbiamo trovato in modo di rianimarli e l'abbiamo fatto per colpe nostre più che in merito degli avversari perché in quel momento la partita era completamente in mano e non è che abbiamo preso gol dopo una reazione veramente degli avversari quindi questo ci lascia un po' da mare un bocca ma un minimo però una bella lezione perché spero i ragazzi abbiano capito che a questi livelli non si può assolutamente mollare mai niente. L'aspetto più bello della partita ma l'aspetto più bello della partita secondo me è un dettaglio a cui ho fatto caso che a Godi Mertens in segno ha fatto 50 metri di campo per andare a abbracciarle e questo è per me il segnale più importante. Maksimovic ha fatto un buon ingresso, ha fatto una buona partita, ha anticipato i tre giorni l'esordio perché era previsto di farlo giare a Bergamo e quindi ha anticipato i tre giorni ma ha dimostrato subito che la perseveranza di Giuntoli nel volerlo a tutti i osti era la scelta giusta. Allora, buonasera mister. Aspetta c'è la traduzione. Ah, perdon. Vai. A prima domanda è un buon gioco. Qual è il aspetto del gioco che mi piaceva? Se fosse un aspetto tattico, il gioco tattico, la estrella di Maksimovic o quattro golli che fatti al Benfica? La risposta del mister è una equipa di topo della gama, è una grande equipa, erano mesi che non perdiamo fuori di casa. dimostramos oggi che possiamo stare in questa competizione, in questa Champions League. Non fu un gioco facile, ma fizemos una grande prestazione. Temos claramente alcuna cheixa conosco per aver reanimato l'avversario e penso che questo fu più per le nostre culpe, per le nostre faltate, do che per i meriti dell'avversario. Visto che sono molto lunghe le traduzioni in altre lingue, è quasi il doppio dell'italiano. Marco, Maksimovic e forse anche Giaccherini a Bergamo sarebbero opportuni. ultimamente schierati da Sarri. Maksimovic credo lo abbia detto Sarri, ma lo ha detto anche Maksimovic che abbiamo visto in sua impressione le dichiarazioni del giocatore che ha detto sono pronto per Bergamo. Sarri ha chiaramente detto che era comunque prevista la sua presenza. Non credo tra l'altro che Albiolo sarà in grado di recuperare, per quanto pare che per fortuna non si tratti di un infortunio grave, ma avrà bisogno sicuramente di riposare, quindi Maksimovic sicuramente. Su Giaccherini anche potrebbe partire titolare o giocare e entrare in corso d'opera. Insomma, mi aspetto più di un cambio per la partita di Bergamo perché oggi le energie profuse in campo dai giocatori sono state tante. Anche perché Caglion ha sempre giocato finora, quindi dovrà pur riposare dopo due, sei, otto partite tra campionate e Coppa. Dopo la partita di Kiev si affrontava una formazione che da 15 partite non perdeva fuori casa, l'ultima volta aveva perso contro il Bayern. Si può dire che stasera nasce un grande Napoli europeo anche da questo punto di vista? Cioè le cose che fate in campionato stasera siete riusciti a dimostrarle anche a livello continentale contro una squadra di massimo livello? Ma io penso che la squadra ha dimostrato che in questa competizione ci può stare. a livello di gioco la squadra a livello di mentalità deve ancora crescere secondo me perché questa è una partita che andava solo messa in ghiaccio in cui c'era solo da gestire la palla nella maniera più semplice e veloce possibile e a livello di mentalità abbiamo dimostrato che ancora dobbiamo crescere un attimino per poter fare queste manifestazioni perché se questa era un'eliminazione diretta avevamo combinato un bel casino. Ma come è successo a Chievo la squadra al novantesimo era consapevole di questo? E a Chievo ci raccontò che la squadra abbiamo sbagliato a gestire la passa finale della partita che era l'anno tempo anche stasera? Sì c'era un clima in cui si vedeva una leggera bellatura di giramento nella soddisfazione ma si vedeva una leggera bellatura. A traduzione? A primeira pergunta foi, esse foi un'exame di maturità, dopo il gioco di Kiev abbiamo un grande Napoli che probabilmente mostrò poter essere un grande Napoli anche a livello europeo e non solo nel campionato italiano giocando contro una grande equipa e ganando contro una grande equipa. A resposta del ministro è che possiamo stare in questa competizione, che il nostro gioco è buono per questa competizione e che abbiamo la mentalità, ma al stesso tempo mostrò che abbiamo di crescere, abbiamo di gestire meglio questi gioco di maniera più facile, di maniera più direta, abbiamo di crescere in termini di mentalità. Se oggi tivesse stato un gioco di apuramento e di eliminazione diretta, questo sarebbe stato un grande problema. A seconda questione foi, dopo il gioco di Kiev la equipa ficou zangata e admitiu uns erros? Foi a mesma coisa no gioco di hoje e a resposta do mister foi, foi mais ou menos, os jogadores estavam bastante chateados hoje também. Sera mister. Ciao. Volevo chiederti, la tua emozione per questa prima partita di Champions al San Paolo qual è stata, se ce la racconti? A livello emozionale la prima partita di Champions è stata questa, perché a Kiev c'era la sensazione di una partita bella, importante, ma il clima di stasera era qualcosa di benzo. Quindi a livello emozionale sicuramente l'impatto di stasera sta molto più importante, molto più coinvolgente, molto più sentito, perlomeno da parte mia, e sbuccare dal sottopassaggio ogni San Paolo così è tanta roba, è stato bello, lo stadio ci ha dato una grandissima mano fino da prima dell'inizio della partita, non solo durante la partita. Quindi il vero debut emozionale penso sia stato stasera. La domanda è stata, quali sono le vostre sensazioni in relazione a questa estrella in San Paolo in questa Champions League? La risposta del mister è stata, il gioco di Kiev è stato il mio primo gioco, ma effettivamente considero questo il mio primo gioco di Champions League, perché le sensazioni che mi hanno dato questo gioco sono chiaramente differenti. Tive un impatto importante, senti un impatto più, a partire da quando stava a arrivare al ralbato del balneario, senti un'atmosfera speciale, il stadio ci ha aiutato molto a partire da prima del gioco e durante il gioco, chiaramente. Ultime tre domande. Allora, quel signore lì? Mister, solo un aggettivo per definire l'urlo Champions del San Paolo, un aggettivo. Bene, quindi una cosa rapida. C'è un aggettivo, se l'ho detto, è coinvolgente, è una sensazione, le sensazioni sono sempre difficili poi da spiegare, e con una parola sola diventano ancora più difficili. È un qualcosa che ti tocca, ti rimane nell'anima, nella pelle, è un tatuaggio. La domanda è stata, può definire l'urlo Champions del Stato di San Paolo, un aggettivo? La risposta del mister è stata, potrebbe essere abrangente, ma penso che è difficile portare tutte le sensazioni solo in una parola. Allora, effettivamente una cosa che ti entra dentro, che fica davanti la pelle, è una tatuaggio. Ok, Gallo. Salve. Che cosa le è piaciuto di più di questo Napoli, tatticamente, cioè nel campo, questa sera? Ma abbiamo avuto il primo quarto d'ora qualche problema, andare a prenderli alti, e questo gli faceva fatica le loro giocate, e noi facevamo fatica a rialzarci. Piano piano abbiamo preso baricentro, siamo andati a prenderli costantemente, sempre un po' più alti, sempre un po' più alti, finché all'inizio del secondo tempo ci sono stati 20 minuti in cui loro facevano fatica ad uscire puliti da dietro, e noi rionquistavamo la palla molto più alti, e quello è stato, secondo me, il tratto più bello di partita dal punto di vista tattico, perché sta in tratto di partita in cui abbiamo proprio fatto e lo avevamo preparato in questi giorni. Traduzione sintetica. Sì. Qual foi il aspetto tattico di questo gioco che mi piace più? No primo, nei primi 15 minuti, avevamo un problema a imparci-los più per la parte più alta, ma poi abbiamo fatto più alti, abbiamo fatto un pozzo più alto, e abbiamo fatto più pozzo di balli. Nel primo 20 minuti della seconda parte, credo che avevano grandi problemi in scegliere da difesa, e credo che questo era l'aspetto più bello di questo gioco, perché conseguimos applicare lo che noi abbiamo preparato. Veloce. Veloce. Mister, quando la palla non gira più velocemente, e quindi la squadra magari ha in questi momenti un po' di calo, la fisicità di Diavarà in futuro potrebbe essere un elemento importante da questo punto di vista a centro campo, per sopperire proprio in questi frangenti? Sì, ma il problema non è stato difensivo, perché non è che abbiamo preso gol al termine di una reazione vehemente degli avversari e ci hanno giusto un'area di rigore, abbiamo preso gol perdendo la palla in maniera un po' valale nell'uscita in palleggio, quindi non era assolutamente in quel momento un problema di interdizione, più o meno, perché in quel momento la partita era completamente mano nostra. Quindi è stato un problema proprio di leggerezza nel dare la partita acquisita e essere meno attenti nelle fasi di palleggio. Quindi Diavarà ci può fare comodo, se gli avversari ci costringano veramente negli ultimi venti metri è un bene emenza, ma nella partita di stasera è stata, penso, più leggerezza nostra, per dare il risultato più acquisito e tutto facile e ti vengono fuori un paio di erroracci di questo tipo. La domanda è stata, credo che il diavarà può essere più un'ajudato in termini di mezzo di campo? La risposta è stata, credo che non è che nel gioco di oggi abbiamo un problema difensivo, credo che il gioco è venuto dal nostro errore, perderemo una balla banale, stavamo a cercare della nostra difesa, non abbiamo potuto lavorare bene in fase di interdizione, quindi abbiamo fatto un errore, il diavarà chiaramente sarà una maesvalia, ma ripeto che oggi probabilmente il gol deles è un nostro errore. A chiudere, canale 21, un tocco femminile. Sì, eccoci mister, buonasera, volevo chiederle una considerazione sulla prestazione di Giaccherini e poi la vittoria di questa sera, quanto è importante mentalmente per l'umore e che benzina dà anche in campionato? Ma sai, mentalmente non è che venivamo da un periodo difficile, duro, pieno di sconfitte, quindi mentalmente è solo una conferma nella squadra della potenzialità e quindi penso che continui a dargli fiducia, può dare ancora più entusiasmo, bisogna fare attenzione sempre all'entusiasmo, rimanga entusiasmo e non sconfini in qualcosa di diverso e può diventare invece positivo o negativo. Penso che per il campionato purtroppo non ci dà niente, dal punto di vista materiale non ci dà niente e spero che da domani il gruppo capisca che poi c'è da fare il conto con la realtà di tutti i giorni, dopo aver giocato il Benfica c'è da andare a Bergamo, a giocare all'Atalanta e spero che il rischio di avere un'applicazione, una determinazione nettamente inferiori, questa squadra sia matura da non correre. Giaccherini l'ho messo perché è un giocatore di grande ordine, in quel momento ci poteva dare grande ordine e oltre a questo è stato bravo anche nel finale a tenere palla e a farci venire via dalla nostra metà campo. Un ragazzo che conosciamo, un giocatore forte, che ha avuto questo problema, che gli ha condizionato questa parte iniziale di stagione, si sta riallenando, sta tornando piano piano ai suoi livelli di rendimento fisico e quindi è un giocatore per noi in futuro e sarà molto molto importante. Grazie a tutti. Grazie e buona notte a tutti. Grazie a tutti.